Vi trovate nel mio canale con un nuovo tutorial. Vi presento subito gli occorrenti di questo nuovo progetto. Come avete visto nell'anteprima iniziale lavoreremo il punto chevron e ho scelto questi tre colori. Il filato che sto usando è il fiocco, nella versione marrone, celeste e giallo. Gli uncinetti che sto usando sono del 3 e 3,5. Il fiocco è un cotone 100% della 3 sfere. Si lavora con l'uncinetto che va dal 2,5 al 3,5. È un filato molto morbido, i colori sono molto accesi e per quanto riguarda il risultato finale il progetto non risulta molto pesante. Detto ciò possiamo iniziare con il progetto. Come avete visto nell'anteprima iniziale lavoreremo il punto chevron. La lavorazione è in tondo. Prenderemo la circonferenza del torace e avviare le catenelle della nostra circonferenza. Nel mio caso ho 88 cm e ho avviato 150 catenelle. Il multiplo del punto è di 10. Quindi se cambiate filato e uncinetto, prendete la vostra circonferenza, avviate le vostre catenelle e mettete intorno al torace. Quando la prima catenella si unisce con l'ultima, chiudete con una maglia bassissima. Per quanto riguarda il punto chevron è un punto molto particolare e bello, perché abbiamo delle diminuzioni e degli aumenti che formano delle punte. Io vado ad avviare 150 catenelle con l'uncinetto del 3, che nel mio caso sono 88 cm. Quindi faccio un piccolo cappietto e avvio le mie 150 catenelle. Lavorate la catenella dei vostri centimetri, andiamo a unire la prima catenella con l'ultima. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Vado a lavorare due giri di maglia alta per avere la parte di sopra più sostenuta. Quindi mi alzo con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Vado a fianco e devo andare a lavorare, nel mio caso, 150 maglie alte. Andiamo a chiudere tutti i giri con una maglia bassissima. Quindi chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado a ripetere il giro delle maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quindi come si presentano le maglie. In questa maglia alta lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. A fianco, maglia alta. Terminato i due giri, ho chiuso con una maglia bassissima, taglio il filo e faccio un odino di sicurezza. Vado a cambiare il colore. Prendo il colore celeste, entro qui dove ho tagliato il filo e vado a lavorare il punto chevron. Io ho scelto questi colori, ma potete scegliere qualsiasi colore o tinta unita, oppure anche lo sfumato, il filato sfumato è molto bello. Mi alzo con 3 catenelle per lavorare la mia prima maglia alta. Iniziamo direttamente con l'aumento. Quindi 3 catenelle, 2 di separazione, vado nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a lavorare altre 3 maglie alte consecutive. Quindi 1, 2 e 3. Che con questa prima maglia alta fanno un totale di 4. 1, 2, 3, 4. Ora invece dobbiamo saltare 2 catenelle di 2 maglie alte di base per far venire la punta verso il basso. Quindi 1 e 2. Nella terza maglia alta lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco 2, a fianco 3 e a fianco 4. Vado a ripetere le 2 catenelle per lavorare un'altra maglia alta dell'aumento. Quindi lavoro 2 catenelle, vado nella maglia alta a fianco e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco 2, a fianco 3 e a fianco 4. In questo punto saltiamo 2 maglie alte di base, 1 e 2 e lavoriamo la terza. Sulla terza maglia alta, la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3, a fianco 3, a fianco 3, a fianco 3. e a fianco 4. E vado a proseguire questa lavorazione fino a terminare il giro. Quindi salto 2, nella terza una maglia alta. A fianco 2, a fianco 3 e a fianco 4. 2 catenelle, vado nella maglia alta a fianco per lavorare la prima maglia alta. Vado a concludere la lavorazione chiudendo con una maglia bassissima, mi ritrovo con 3 maglie alte. La quarta, sono le 3 catenelle del giro d'inizio. Quindi sulla terza catenella chiudo con una maglia bassissima. Andiamo a lavorare il secondo giro e dobbiamo ripetere questa lavorazione fino alla lunghezza che noi vogliamo. Quindi non dobbiamo fare altro che lavorare l'aumento nelle catenelle e saltare sempre le due maglie alte, come abbiamo fatto sotto. Quindi iniziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta. All'interno delle due catenelle ripetiamo l'aumento. Maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Vado a lavorare maglia alta su maglia alta, quindi per un totale di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Come abbiamo fatto sotto, che abbiamo saltato 2 maglie alte, anche qua, queste 2 le saltiamo. Quindi 1 e 2 le saltiamo. Vado sulla terza per lavorare una maglia alta. Vado a fianco 2, a fianco 3. E all'interno delle due catenelle ripetiamo l'aumento. Maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Di nuovo 1, 2 e 3. Salto 1, salto 2, vado sulla terza e lavoro 1, 2 e 3. Maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Maglia alta, vado a fianco 1, 2 e 3. Salto 1, salto 2, vado a fianco ancora per lavorare 1, vado a fianco 2 e la terza maglia alta. All'interno delle catenelle ripeto una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo maglia alta. Vado a ripetere questo per tutto il giro. Vi faccio rivedere come ripartire e dobbiamo lavorare 4 giri con il celeste. Poi cambiamo colore e vado a lavorare di nuovo 4 giri con il giallo. Mi ritrovo al termine del giro e quindi ho 2 maglie alte e con le 2 che abbiamo lavorato all'inizio giro sono 4, quindi chiudo con una maglia bassissima. Questa è la lavorazione che dobbiamo fare. Vado a iniziare il terzo giro con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e vado a ripetere le maglie alte come abbiamo sotto. Dove ho le catenelle vado a lavorare l'aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro all'interno una maglia alta. Lavoro maglia alta su maglia alta sottostante saltando 2 maglie alte. Salto 1 e 2, vado sulla terza e vado a ripetere la lavorazione che ho sopra. Vado a lavorare un altro giro con il blu, l'ultimo giro, poi cambio il filo. Una lavorazione molto semplice, ma molto carina. Quindi, lavoro 2, lavoro 3, salto 2 maglie alte. Questa è la lavorazione. Man mano che andate avanti, caso mai vi rendete conto che volete aumentare al livello del seno, cambiate uncinetto, usate il 3,5 e poi andiamo a fare degli aumenti. Quindi, se casomai volete la parte iniziare a fare gli aumenti dal seno, lavorate le maglie alte come si presentano e dove abbiamo l'aumento, lavoriamo una maglia alta. Rientriamo 2, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo 2 maglie alte. E dobbiamo lavorare questo per tutto il giro, quindi... Poi lavoriamo le maglie alte come si presentano, saltando sempre 2 maglie di base, 1 e 2 le vado a saltare. Vado a fianco e lavoro 1, vado a fianco e lavoro 2, a fianco 3 e all'interno lavoro 2 maglie alte invece di 1. 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta, saltando 2 maglie alte. Proseguite questo fino a terminare il giro. Dal giro successivo invece lavorate le maglie come si presentano. Se volete aumentare ancora, all'interno lavorate sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Oppure, maglia alta su maglia alta, per un totale di 1, 2, 3 e 4. E poi all'interno lavorate 1 maglia alta, 2 catenelle e 1 maglia alta. Però andate avanti e ve lo faccio vedere con un altro colore. Una volta che abbiamo terminato di lavorare i nostri 4 giri con il blu, andiamo a cambiare il colore. Tagliamo il filo e vi faccio vedere come iniziare la lavorazione con un altro colore. Iniziamo da un punto qualsiasi per non far vedere la chiusura del lavoro. Vado a lavorare e vi faccio vedere anche come lavorare sugli aumenti. Una volta che avete deciso quanti aumenti volete, quindi fate il primo giro di aumenti e vedete se vanno bene. Quindi misurate perché possiamo misurare tranquillamente e vedere se continuare oppure fare 4 giri senza fare aumenti. Quindi vado a iniziare direttamente qui dove ho la maglia alta del secondo aumento. Qui ho fatto all'interno delle catenelle 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. All'interno delle catenelle lavoro 1 maglia alta, 2 catenelle, rientro 1 maglia alta. Se volete continuare con gli aumenti lavorate 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vado a lavorare maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Alla fine non saranno più 4 ma 5 maglie alte perché abbiamo aumentato di una maglia alta. Salto sempre 2 maglie alte sottostante. Queste le dobbiamo saltare sempre. Quindi 1 e 2 vado sulla terza e lavoro 1, 2, 3, 4 e all'interno delle catenelle lavoriamo l'aumento. Salto 1 maglia alta, 2 catenelle e 1 maglia alta. Quindi poi maglia alta su ogni maglia alta sottostante saltando sempre le 2 maglie alte, altrimenti il punto chevron non ci viene. Quindi salto 1 e 2 e vado sulla terza. E proseguite questo fino alla vostra lunghezza. Vi rendete conto voi ogni quanto volete fare gli aumenti? Potete fare pure un giro di aumenti, un giro senza aumenti e un giro con gli aumenti. Oppure 4 giri senza fare aumenti e uno con gli aumenti. Dipende come volete voi la maglia. Andate avanti e vi faccio vedere come sono andata avanti. Ecco come si presenta alla fine il nostro lavoro. Le catenelle d'avvio le facciamo capitare sopra per avere questa larghezza. Ho lavorato il punto con l'uncinetto del 3 per un totale, da questo punto fino al colore marrone, per 26 cm. Dal colore celeste ho iniziato a lavorare con il 3,5 per avere una maggiore larghezza. E come vedete si vede che è un po' più larga. Dal giro del colore giallo, dal primo giro, ho inserito dove abbiamo gli aumenti, un aumento in più per tutto il giro. Quindi qui ho fatto due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Quindi l'ho ripetuto per tutti gli aumenti che abbiamo. E qui dobbiamo sempre saltare le due maglie alte per avere questo motivo. Adesso vado a riprendere con il colore marrone e vado a fare un altro giro di aumenti e poi altri tre giri senza fare aumenti. E ve lo faccio rivedere. Se voi volete continuare a fare due giri con aumenti e due senza aumenti potete farlo tranquillamente. Dipende come volete voi la larghezza della vostra maglia. Con l'uncinetto del tre e mezzo lavoro entro dove ho l'aumento la maglia dell'aumento faccio un piccolo cappietto e lavoro tre catenelle uno, due e tre. All'interno dell'aumento lavoro due magliate uno e due due catenelle rientro due maglie alte quindi come vi ho fatto vedere nel campione uno e due maglia alta su ogni maglia alta sottostante quindi vado a fianco una maglia alta vado a fianco una maglia alta e a fianco una maglia alta saltiamo sempre uno e due quindi vado a fianco uno vado a fianco due tre quattro all'interno lavoro due maglie alte uno e due due catenelle e due maglie alte proseguo questo per tutto il giro dal giro successivo non vado a fare gli aumenti ma lavoro maglie alte su ogni maglia alta sottostante terminato questo giro di aumenti vado a lavorare altri tre giri senza aumentare io ho inserito solo due volte gli aumenti nella riga nella prima riga del colore giallo e nella prima riga del colore marrone dal celeste invece ho cambiato numero di uncinetto vado a lavorare le maglie come si presentano quindi mi alzo con tre catenelle che è la mia prima maglia alta maglia alta su ogni maglia alta sottostante all'interno delle catenelle lavoro una maglia alta due catenelle e una maglia alta non lavoro più due maglie alte vado a fianco e lavoro una maglia alta vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta vado a ripetere le maglie come si trovano sotto sono andata avanti con la lavorazione e ho terminato con il colore marrone la lunghezza della mia canotta è di 43 centimetri 43 centimetri e mezzo se volete lavorare più la canotta più lunga andate avanti con la sequenza dei colori per quanto riguarda la lavorazione ogni 4 giri ho cambiato il colore e ho lavorato con il numero 3 l'uncinetto del 3 poi ho cambiato l'uncinetto per avere la parte di sotto un po' più larga e ho lavorato con il 3 e mezzo 4 giri con il 3 e mezzo invece poi ho inserito degli aumenti nella parte dove ho lavorato il colore giallo e il colore marrone però solo al primo giro all'interno delle catenelle ho lavorato 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte per tutto il giro gli altri 3 giri invece ho lavorato senza fare aumenti se a voi invece vi piace più larga potete lavorare 2 giri con gli aumenti inserendo una maglia alta in più e gli altri 2 giri senza fare aumenti questo l'ho fatto al primo giro del colore giallo e al primo giro del colore marrone e questo è il risultato come vedete si vede questa piccola svasatura per quanto riguarda la bredella invece ho piegato a metà e mi ritrovo il centro del davanti e il centro del dietro ho misurato metto meglio in questo modo da questo punto verso l'interno 10 cm ho contato 6 maglie alte ho messo l'altro segno anche qui ho fatto la stessa cosa 10 cm 6 maglie alte ho messo il segno la bredellina è di 6 maglie basse e ho lavorato per un totale di 32 cm e poi vado a unire con il dietro non l'ho fatta molto larga perché come vedete il punto basso è elastico quindi poi man mano che lo mettiamo cede molto e poi viene molto scollata questa invece è la scollatura del davanti adesso andiamo a lavorare la bredellina anche da questa parte con il filato celeste con l'uncinetto numero 3 tolco il primo segno entro con l'uncinetto e vado a lavorare una catenella rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa questa è la prima maglia bassa vado a fianco e lavoro 2 a fianco 3 4 5 e 6 devo lavorare in giri di andate e ritorno 6 maglie basse quindi giro il lavoro mi alzo con una catenella rientro nello stesso punto e lavoro 1 2 3 4 5 e 6 dobbiamo lavorare in giri di andate e ritorno per un totale di 32 cm nel mio caso quindi una catenella rientro nello stesso punto e lavoro 1 vado a fianco una seconda maglia bassa a fianco una terza maglia bassa quarta quinta e sesta una volta che facciamo questo andiamo a cucire una volta che abbiamo terminato di lavorare tutte e due le bretelline mettiamo pieghiamo in questo modo e dove abbiamo messo i segni da dietro dobbiamo far corrispondere la bretellina e vado a fare dei piccoli punti cucendo da rovescio quindi entro prendo una parte della maglia e una parte delle bretelline della bretellina e vado a cucire in questo modo vado a ripassare se necessario la cucitura per rendere più resistente la cucitura quindi tolgo questo segno e vado a fare questo lavoro da questa parte e anche dall'altra parte una volta che finiamo di fare questo possiamo tagliare i fili e cucire il tutto quindi poi andiamo a ripassare ecco una volta che abbiamo cucito dal diritto questo è il risultato andiamo a fare questo lavoro da una parte e dall'altra il risultato finale come avete visto nell'anteprima è molto bello e molto particolare i colori anche se sono contrastanti sono molto belli messi insieme per quanto riguarda la taglia ho utilizzato due gomitoli per colore questa è una taglia M se volete la canotta più lunga dovete prendere almeno altri due gomitoli in più per colore detto ciò questo è il risultato finale il mio tutorial finisce qui se vi è piaciuto mettete un like ho un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto che è un gruppo libero iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ci vediamo con altre novità e ciao